American Airlines annuncia una mega commessa di apparecchi, 460 veivoli a Boeing e Airbus. Per quanto riguarda il gruppo europeo, American Airlines ha ordinato 260 modelli A320. La casa di Seattle invece fornerà 200 apparecchi nel modello B737 con un'opzione per altri 100, un ordine che per obiettivo è il rinnovo della flotta di American Airlines.